Kiwi, che passione! Eh sì ragazzi, perché questi simpatici frutti dalla polpa verde sono un tripuido di vitamina C. E come sapete questa vitamina è fondamentale per il nostro organismo. Combatte ad esempio i radicali liberi, che danneggiano le cellule e sono fonte di infiammazione e tumori. La vitamina C aiuta anche a proteggerci contro i sintomi dell'asba ed è un'ottima alleata contro le malattie cardiovascolari. Studi recenti inoltre hanno dimostrato che una dieta ricca di vitamina C potrebbe tagliare di un terzo il rischio di progressione della cataratta, causa principale di cecità a livello mondiale. Insomma, una bella scorpacciata di salute. Io oggi ho fatto una buonissima macedonia di vitamina C. Mela, finocchio, carota, arancia e kiwi. Scopritela sul mio blog. Alla prossima! Alla prossima!